Il nuovo Consiglio Comunale nasce tra attenzione e nervosismo in aula. È una donna nuova Presidente del Consiglio Comunale di Siracusa, Moena Scala, giovane avvocato, la donna più votata alle scorse elezioni comunali. Scala è stata eletta con 19 voti contro gli 11 di Giovanni Boscavino. Voglio concentrare l'attenzione sul tema della responsabilità verso i cittadini che ci hanno eletto, ha detto Scala. Dobbiamo lavorare ogni giorno tendendo lo sguardo fisso sui principi. I cittadini ci chiedono di essere rappresentati, per questo noi abbiamo bisogno di confronti duri ma costruttivi. Si apre sotto i cattivi auspici il settimo mandato amministrativo, da quando si è dato a via l'elezione diretta del Sindaco. Il Consiglio Comunale si apre con la protesta dei pulizieri del Comune davanti al Palazzo del Mexico. Vicente portata in aula dal Consigliere Salvo Castandini, il quale chiede di inserire il punto alla prossima seduta. Una seduta contrassegnata da un'atmosfera incandescente, quando si passa l'elezione del Presidente con un schieramento trasversale. Centro-sinistra, Movimento 5 Stelle e una frangia del centro-destra, Movimento Amo Siracusa, a nome del capogruppo Michele Mangiafico. Votando compatti con 19 voti, ad appannaggio del Consigliere Pentastellato Moena Scala e interventi duri, quelli di Salvo Castagnino che si scaglia contro Giunta e Presidente per via dello strano accordo politico. La Consigliera Vince sottolinea come questa Giunta finora non ha saputo dare delle risposte alle 500 famiglie che attendono per gli asili nido. Tensione nel momento in cui va via la luce elettrica che crea alte temperature al vermexio, non solo in termini di gradi. Per quanto riguarda il Vice Presidente è stato eletto Michele Mangiafico sempre con 19 voti. Prendo atto oggi dall'espressione, o meglio dal risultato del voto di quest'Aula, che è un risultato politico, che chi vota 5 Stelle a Siracusa vota PD. Senza infatti l'accordo tra queste due espressioni politiche, questo risultato non sarebbe mai stato raggiunto come vota parte di quel centrodestra che ha sostenuto il nostro candidato Siracusa. Ne prendo atto, voi avete reso pubblico a questo accordo e continuo a dire, Presidente, che le auguro buon lavoro. nel mio gruppo avrà sicuramente un gruppo che l'aiuterà nella gestione dell'Aula quando la sua attività sarà conforme al regolamento e contestualmente avrà uno scontro costruttivo col mio gruppo quando lo scontro dovrà esserci. perché noi, a dispetto di altri soggetti, tra cui quelli che l'hanno votata e che non erano del suo movimento, restiamo sempre rispettosi dell'accordo che abbiamo col nostro elettorato. Noi abbiamo firmato un accordo con chi ci ha votato in città e lo portiamo avanti, indipendentemente da quelli che possano essere accordi di poltrona. Al di là degli orientamenti politici, perché non è soltanto un voto politico, ma è un voto di risultato. Questo risultato evidentemente ha dato, il risultato politico delle elezioni ha dato anche un risultato oggi in questo Consiglio Pugno. I 5 Stelle hanno dato un segno, sono stati accettati dai cittadini, sono stati votati ampiamente e quindi anche avere una rappresentanza politica, le 5 Stelle, in Consiglio Comunale, per la prima volta anche essere donna, sicuramente è una cosa positiva. Pertanto, a nome del progetto Siracusa, intendo fare gli auguri, intendo chiedere fortemente di iniziare a lavorare per la città. Oggi siamo al 3 settembre, gli asili nido non apriranno, 500 famiglie non hanno dove portare i loro bambini e più di 100 dipendenti sono a spasso, non sanno che fine faranno. Dobbiamo iniziare a lavorare per la città. Desidero chiederle personalmente anche, sulla base dell'esperienza di questi ultimi 5 anni, Sottolineo che ciascun consigliere che siede in quest'Aula rappresenta una fetta della nostra città. Non è soltanto un colore politico, ma è una rappresentanza di una porzione di cittadini. Pertanto, il rispetto a ciascuno di noi lo pretendiamo perché purtroppo l'esperienza degli ultimi 5 anni non ci ha dato risposta su questa richiesta. Vogliamo i tempi, vogliamo che vengano cronologicamente inserite in calendario le nostre richieste di trattazione in Consiglio Comunale. Desideriamo rispetto del lavoro non del politico, ma dei cittadini che rappresentiamo.